Ciao a tutti, sono Monica Marianini dall'Italia. Questo è il mio progetto per il contest stamperia. È una tela realizzata con la collezione Provence. Per questa tela ho utilizzato dei molds, carta di riso e dei cuts. Spero tanto che vi piaccia. Mi raccomando, lasciatemi un like. Ciao ciao a tutti, bye bye!